Guarda la dentro. Però ho denoto subito un'ottima caramellizzazione degli zuccheri. C'è, c'è. C'è, la caramellizzazione c'è. Vediamo all'interno, vediamo all'interno. Mamma mia, va bene. Secondo me tendenzialmente potrebbe anche essere burro. Sì, proviamo. Proviamo, proviamolo. Altaggio risultava molto, molto scioglivo. Vediamo anche al palato, capisciami? Mamma mia, guarda quel grassetto. Ma che colore ha? È marmoreo. Posso? Posso dire? Senza sale. Senza sale, manzetta bruttese, ragazzi. Italiana, italiana. Molto delicata. Molto delicata. Molto, molto delicata. Per nulla invasiva il grasso, cioè, non è struttivo. Facciamolo. Interessante. Adesso, questa qua, eh? Molto interessante, con la tipologia di gioco. No, c'è, ma grazie. Bene, ti facciamo un po' mancare il problema, ma la pasta è bella. Buon appetito! Buon appetito!